Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi, ore 13.30 come sempre per parlare insieme di Fantacalcio. Nei due giorni scorsi abbiamo visto le fasce sui portieri, difensori, centrocampisti, classiche mantra, aggiornate. Oggi andiamo a chiudere questo trittico di video ovviamente con gli attaccanti. Vedremo prima gli attaccanti delle classic e a seguire ovviamente PC e A del mantra. Prima di continuare però se non l'avete ancora fatto mi raccomando, like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis. Gratis come registrarsi su Starks, trovate il link in descrizione che cos'è Starks. Starks è la prima piattaforma in Italia dove è possibile acquistare i token direttamente dei giocatori. Nei giorni scorsi è arrivato Scamacca che si è andato ad aggiungere una lista già importante come Fratesi, Strefezza, Immobile, Bove, Carne Secchi e tanti altri. Nei prossimi giorni arriverà un altro giocatore. Vi ricordo che a fronte di un deposito di 20 euro ne riceverete 15 in omaggio. Quindi è un bel momento per entrare su Starks anche perché poi a settembre uscirà il gioco per la prima volta. Detto questo adesso ci andiamo a spostare su Fantalab, andiamo a vedere insieme le fasce degli attaccanti. Vi ricordo che tutto quello che vedete in questo video corrisponde alle fasce per gli abbonati premium su Fantalab ma se avete l'abbonamento qui su YouTube o quello sulla piattaforma Viola trovate i file Excel corrispondenti caricati nella sezione abbonati su Fantalab. Se non avete ancora capito dopo tutta l'estate come fare a riscattare il vostro abbonamento su Instagram, ProfetaFantacalcio, c'è una storia chiamata riscatto abbonamento, è fissata lì e vi spiego passo dopo passo cosa fare. Vi anticipo già che dovete farlo da PC e non da smartphone. Detto questo andiamo su Fantalab e vediamo gli attaccanti. Ed eccoci qui ragazzi, partiamo dagli attaccanti titolari low cost. Io qui, il mio preferito di questo gruppo è Kedira, che potrebbe anche giocarsi i rigori con Aroui. Sto registrando questo video sabato pomeriggio, quindi non so ancora quello che è successo nel resto della terza giornata, però diciamo che gli altri nomi non mi fanno impazzire. Toven va bene adesso, però poi quando torna De Lofeu, quando tornerà Brenner, è arrivato anche Davis, Insomma, bisognerà un po' capire lì davanti chi giocherà nell'Udinese. Andiamo poi nel gruppo delle scommesse, dove abbiamo Kvernadze, Moise Ken, Abram da febbraio in poi, Tourette da novembre-dicembre in poi, il ciolito Simeone, Alexis Sanchez, Muriel, Luca, Davis appunto dell'Udinese, Kuni, Brenner, Mulattieri, Isaksen, Kirstowicz e Carlson. Qui, se dovessi dirvi così la mia preferenza in questo preciso momento, andrebbe sicuramente su Kirstowicz. Perché? Perché Brenner purtroppo ne avrà per due mesetti, Mulattieri è entrato bene nella terza giornata, nella gara vinta dal Sassuolo 3-1, però è ancora un po' chiuso da Pinamonti, Carlson l'anno scorso ha avuto tanti infortuni, insomma, tra tutti forse Kirstowicz è il nome che preferisco. Occhio poi al ballottaggio Davis e Lucca, perché lì davanti, secondo me, uno dei due, almeno per uno o due mesi, sarà il titolare dell'Udinese. Dovessi puntare un cento in questo momento, forse andrei più su Davis rispetto a Lucca. Arriviamo poi alla categoria degli underdog, dove abbiamo Okafor, l'arrivo di Jovic, personalmente non mi fa né caldo né freddo, credo che Jovic, se non ha fatto la differenza a Firenze, non vedo perché dovrebbe farla a San Siro col Milan, Luvumbo, resto dell'idea che sia forse l'attaccante più interessante del Cagliari quest'anno, Colombo al Monza, potrebbe fare bene, titolare, Castellanos, Zirkze, non è arrivato nessun altro, piena fiducia da parte della società, piena fiducia da parte di Motta, quindi giusto fidarci anche noi, Raspadori, ne abbiamo già parlato tanto quest'estate, Cambiaghi, a mio parere l'attaccante col potenziale più alto lì davanti, nell'Empoli e poi Anquist, che quest'anno io ve l'ho presentato come scommessa, ma essendosi già messo in luce ovviamente nelle prime giornate, adesso lo andremo a pagare purtroppo da underdog. Ci spostiamo poi quindi negli attaccanti di terza fascia, dove si parte da Caso e si va a salire, Caso, Caprari, Bonazzoli, Caputo, Belotti, che resta comunque un bel jolly, nonostante l'arrivo di Lukaku, Sanabria che ovviamente scende di quotazione con l'arrivo di Zapata, bisognerà capire le idee di Juric, penso che inizialmente si resterà col modulo a una punta e poi magari strada facendo, soprattutto a gara in corso, potremo anche vedere la soluzione Vlasic dietro le due punte. Vedremo perché poi sia Sanabria sia Zapata sappiamo che sono entrambi purtroppo due giocatori in giuriprone. Pinamonti, qualche segnale positivo lo sta dando, De Lofeu al momento infortunato, Beltran, Ngonge, Milik, Lauriente, Chiesa, Nzola, Nico González, Reteghi, Zapata, Thuram ed Arnautovic. Come vedete in questo momento sia su Arnautovic sia su Thuram ho messo un 12% circa. Io credo che Arnautovic abbia il potenziale forse per fare più gol di Thuram, ma Thuram credo che abbia il potenziale per fare complessivamente una stagione migliore a livello di fantamedia. Magari Arnautovic farà 13 gol e 2-3 assist, Thuram potrebbe fare 10 gol e 10 assist. Arnautovic magari quelle partite in cui giocherà titolare senza segnare potrebbe prendere un 5, Thuram magari è più un assistman e quindi potrebbe, grazie al lavoro che fa e ai movimenti che fa, prendere il 6,5. Qui dipende dall'attacco che state costruendo. Ci spostiamo poi nella fascia dei semi-top. Lukman, Dià entrambi in Coppa d'Africa, Scamacca che senza Zapata sicuramente diventa il titolarissimo lì davanti di Gasperini, Giroud che è giusto alzare di un paio di punti percentuale anche se ultimamente ha segnato solo su rigore ma sono gol che comunque spostano il prezzo all'asta, Di Bala si paga anche meno del 20% per via dell'infortunio, Varaschelia siamo intorno al 20% e Berardi 21%. Vi avevo detto una settimana fa non fate l'errore di credere che se Berardi resta a Sassuolo sarà un Berardi diverso. Berardi è rimasto a Sassuolo e alla prima partita che ha giocato subito doppietta. Quindi spero che anche qui mi abbiate ascoltato. Arriviamo poi nella fascia dei top. So che tanti di voi non saranno d'accordo ma a mio parere Lukaku io oltre il 23% esagerando 24-25% non andrei. Lo trovo ancora un giocatore rischioso rispetto a certe cifre però a quei prezzi tutta la vita. Leao 27-28% ci sta tutto. Vlaovic siamo intorno al 30% così come Immobile 30-31% credito più credito meno. Tra Lautaro e Simen leggera preferenza per Lautaro per via dell'assenza della Coppa d'Africa e vi posso dire che in questo momento come vedete anche nei prezzi mediani delle altre leghe in Italia Lautaro ha superato leggermente Ossimen. Questo perché probabilmente molti dicono se prendo Ossimen devo prendere anche Simeone. In realtà questo non è così vero perché si possono fare anche altre cose diverse come abbiamo visto però sappiate che sono i due più pagati e sappiate anche che comunque sono giustamente i due più pagati. Detto questo ci andiamo a spostare invece sulle fasce Mantra. Per quanto riguarda il Mantra iniziamo ovviamente da Leao, andiamo a modificare magari insieme qualcosina. In questo momento Leao Berardi, Kvarra, Dybala e Lucman sono giustamente Leao top. Subito dietro io metterei Chiesa, Laurientenico, González, Ngonge e Bonazzoli. Caso, De Lofeu, Raspadori, Anquist, Caprari e Luvumbo. In quarta fascia andrei a mettere Toven, Cancellieri, Carson, Mota, Pedro, Bandà, Cambiaghi, Isaksen, Kwamek, Vernazze. Ma io mi auguro per voi che non siate costretti a schierarli titolari in un Mantra. Cambiaghi comunque è giusto alzarlo leggermente, ci potrebbe stare anche una terza fascia per lui. Eccola qui. Poi abbiamo altri giocatori ma a livello di A pure, ad esempio, un Sanchez, un Barro, un Caramont, un Defrel, un Success, un Giovane Cabral. Non sono nomi che io andrei a comprare in un'asta Mantra. Ci spostiamo invece sulle PC dove vale il discorso fatto prima. I prezzi sono ovviamente indicativi perché in un Mantra sappiamo che le cose sono molto diverse, soprattutto se fate un'asta random. In fascia top metto Lautaro Simeni, Immobile, Vlaovic e Lukaku. A seguire Giruska, Macca, Dià e Arnautovic. Qui forse è giusto alzare un po' di più Thuram, anche se in un Mantra io preferirei forse avere un Arnautovic rispetto a Thuram, proprio perché mi aspetto qualche gol in più e quel rendimento di Thuram magari lo vado a cercare in altri ruoli. Nzola, Sanabria, Zapata, che ovviamente al Torino anche qui sale al 10%, mentre Sanabria lo abbasserei al 5%. Milik, Belotti e Chedira, che tra i low cost forse è il nome che mi piace ancora di più. Per quanto riguarda invece le punte di quarta fascia, abbiamo un Caputo che io al Mantra non andrei a pagare più di un 3%. Petagna, idem, anche qui ovviamente sapete che le PC in un Mantra, le PC basse, spostano meno rispetto a un Classic. Pinamonti, Beltran, Caputo, Castellanos, Petagna, Colombo, che comunque in un Mantra più del 3% anche a Monza non spenderei. Okafor, vi ho messo ovviamente la nota subentrante, Shomurdov, Zirkzee e Diuric. Zirkzee forse qualcosina in più anche qui nel Mantra lo merita. Per quanto invece riguarda le scommesse abbiamo Muriel, Toure, Brenner, che però è infortunato, Davies, Kirstowicz, si può magari andare al 2%, Simeone, Monattieri, Abram, Jovic, Moise Ken, Lucca. Ovviamente anche qui ragazzi ricordatevi che le coppie in un Mantra hanno sicuramente più senso rispetto ad un Classic. Poi giocatori come Lapadula, Azmoon, Henry, Pellegri, Botain, Piccoli, Alvarez, Pavoletti, Kuni, Vanoidonk, Burnet, Marge, Scipendi, Destro, Iquemesi, Caio George, Cocorin, Stewart, Vivaldo e tutti gli altri ragazzi in un Mantra davvero li possiamo lasciare stare. Ragazzi queste erano le fasce dedicate agli attaccanti aggiornate post chiusura del calciomercato sia Classic sia Mantra. Ovviamente poi nei prossimi giorni post terza giornata le fasce verranno aggiornate questa volta per l'ultima volta. Poi durante la stagione sappiate che verranno fatte delle fasce dedicate invece agli scambi in modo che quando ricevete o volete proporre un'offerta saprete sempre almeno per quanto mi riguarda la preferenza sui giocatori anche se una cosa che vi dico sempre è ovviamente poi gli scambi vanno analizzati e contestualizzati a seconda della vostra rosa del fantacalcio. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che questa sera ci sarà la puntata dei Fantastici 4 sul canale di Recosta quindi vi aspettiamo lì per parlare di questo terzo turno di campionato. Vi ricordo anche che nei prossimi giorni ci saranno altre aste live sul mio canale. Il 4 e il 6 ci sarà un'asta classic normale e un'asta classic random e poi vi porterò nuovamente delle live o dedicate alla valutazione delle vostre rose o delle live dedicate all'analisi delle aste che ho fatto nei giorni scorsi in modo da capire, analizzare, vedere un po' le strategie che si sono messe in atto. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando like, mi raccomando iscrivetevi qui sotto al canale che è sempre gratis. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video o alla prossima live. Ciao!